Le visite del mattino vengono spostate al pomeriggio, perché probabilmente costranno le mascherine stamattina, non servono l'accedente. Ma voi avevate delle visite? Dovevate portare ricette? Ma che bastava mettere le ricette? Io dovevo infilarle, neanche salire, e mi dovevo tirarle. Avete i cellulari dei medici? No. Qui siamo a Carpenedo, nella medicina di gruppo, che come vedete è chiusa questa mattina perché i medici volevano le mascherine. Adesso proviamo a suonare. Vediamo se qualcuno apre. Che potremmo tenere aperto, ma se lì è aperto, come dice. E' chissà. Che sconso che è importante. E' buono. Molto. Voici cari.